Vincenzo D'Alessandro Jr. con il numero 10 E' valido il segnale con Belmarino Che ha preso buon vantaggio nei confronti di Bye Bye Laser Tutti più o meno lenti o incerti gli altri Capeggiati ora da Bartalidorio Che precede Brevart Zac Lg Che pure era stato piuttosto lento nella giravolta La quinta posizione per Bandito Ben Mentre è arretrata e in ritardo Bella Maisan Belmarino guida liberamente davanti a Bye Bye Laser Bartalidorio, Brevart Zac Lg I 600 iniziali in un comodo 47,5 Per Belmarino e Giorgio D'Alessandro Jr. Seguiti da Bye Bye Laser Che precede sempre Bartalidorio, Brevart Zac Lg Bandito Ben e Bella Maisan Che si è ricongiunta ed è la prima a prendere la via del largo Dopo 850 metri di gara Rapida la risalita esterna di Bella Maisan Che punta addirittura sul leader Quest'ultimo sta completando il primo giro In l'ordine dell'1 e 20 abbondante Ora ovviamente Bella Maisan lo costringe ad allungare Bye Bye Laser sulle loro tracce A precedere Bartalidorio che è in fuori bandito Ben E in coda si ritrova Brevart Zac Lg Con Bella Maisan che va ad incalzare Belmarino Quest'ultimo che reagisce Bye Bye Laser ha una lunghezza e mezzo da loro Ma cerca di ricucire il gap Quando siamo adesso al paletto dei 500 finali Comanda sempre il 4 di Belmarino Sul 2 di Bella Maisan Si sposta in terza ruota Bye Bye Laser A contatto ora a Bandito Ben Davanti a Bartalidorio e Brevart Zac Lg Con Belmarino che allunga ancora Replica sempre a Bella Maisan E a Bye Bye Laser La retta d'arrivo vede Belmarino In vantaggio, in fuga In seguito da Bye Bye Laser Che attacca Bella Maisan Per l'interno è bandito Ben Belmarino ora deve guardarsi dal ritorno Sempre di Bella Maisan E ancora di più di Bye Bye Laser Bye Bye Laser che riesce a cambiare azione Nel finale va all'attacco di Belmarino Che però si difende Vince Belmarino su Bye Bye Laser E Bella Maisan 4-10-2 L'arrivo ufficioso Della sesta di Capannelle Nell'ordine del 2.35 Circa E gli ultimi due giri di pista Di Belmarino E Giorgio D'Alessandro Junior La media dovrebbe essere Intorno all'1 17.6 1.17.7 Per Il figlio di Nadal Sheba Con i colori Del signor Vito Domenico Notar Nicola Giorgio D'Alessandro Junior Alla guida Giovanni D'Alessandro Al training Si sottrae Vedete per mezza lunghezza A Bye Bye Laser Con Vincenzo D'Alessandro Junior E terza Bella Maisan Che pure aveva avuto problemi Nella fase iniziale 4-10-2 E la linea può tornare allo studio D'Alessandro Junior Grazie.